Sofì ride come una pazza, Giucas vuole il caffè, Alessandro gli vuole mettere il sale, chissà come andrà. Ma quando porti il caffè? Non ho capito, il sale ti metto, il sale ti metto, il sale, no lo zucchero, che metti il sale? Ti metti qualcosa a tuo padre, sei un po' rincoglionito, madre, la bambina non sente nulla, hai fatto una stupenda bambina, ho tutto merito di Sofì, ecco, ho tutto a Sofì, prego? Che prego, tieni, tu puoi girare, o si dice, o si dice, signor, come pure, che c'ha messo lì? Vedi un attimo che nessuno mi ha rovesciato niente, no, mi basta già tu perché non mi fido, che c'ha messo lì, vai, guarda che c'è messo lì. Sembra essere tornati al Grande Fratello con Alessandro Giugas, chissà se alla fine il caffè se l'è bevuto.